Ristoria anche per gli alberghi, lo chiede il presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva dopo che il covid ha messo letteralmente in ginocchio anche il settore del turismo ed ha fatto chiudere gli hotel. Ad oggi nella città di Pesaro soltanto 5 strutture ricettive su 40 restano aperte e il 2020 segna un calo del fatturato superiore al 50%. La situazione ad oggi rimane ancora grave perché oltre alle perdite che abbiamo avuto a fine anno e inizio anno perché ovviamente tutti gli eventi di Capodanno, compreso il Capodanno, sono saltati e ancora oggi molti alberghi annuali sono chiusi e ovviamente gli stagionali credo che non possono aprire in prospettiva nemmeno per i prossimi eventi di Pasqua. Per cui pur avendo il codice ATECO non chiuso e senza limitazioni di fatto il mercato ha imposto agli alberghi di rimanere chiusi. Le perdite sono abbastanza consistenti per gli annuali per cui c'è una situazione veramente difficile quindi anche quelli aperti lavorano con poche camere. Noi chiediamo comunque anche tramite la nostra associazione alla Federal Berger a livello nazionale che è sicuramente un ristoro e quindi torno a ripetere, siamo stati fortemente penalizzati anche per il Natale dove con i ristori numero 4 gli alberghi non sono stati contemplati. Il problema non c'è solo per la montagna, c'è anche per la riviera. Alle regioni chiediamo che intervenga comunque con un altro ristoro per quello che riguarda gli alberghi. Devo dire che il nostro sindaco è stato molto lungimirante e ha stanziato 500 mila euro per abbattere la Tari del 50%. E tra gli hotel rimasti aperti a Pesaro ci sono anche quelli del conte Alessandro Marcucci Pinoli che nello scorso fine settimana per San Valentino ha potuto riempire quasi tutte le camere. E' andata benissimo perché l'idea era buona, infatti me l'hanno anche copiata in varie parti d'Italia e poi avevo dei prezzi molto molto bassi, vantaggiosi perché lo faccio solo per riuscire a tenere aperto non dover chiudere e quindi mandare via tutti i miei personali. I strumenti d'albergo possono dare da mangiare ai clienti dell'albergo, quindi chi dorme qui può mangiare. Per cui mi sono inventato la vacanza a Pesaro per i pesaresi, quindi i pesaresi prendendo la camera potevano mangiare e così anche durante la settimana ho avuto sempre un buon lavoro.